Ciao! Sono a conto di un modo Questi può fare un gioco Sono campioni di rossi Guardi nel sole che va di fare E se lo scrivo le tue fronte Si apri la busta a gemarsi E per te tu non pensare a me Io penso per te che io Can Express! C'era la fine che facevano collezione Di motociclette inglesi di Rolex E il cuore di un punk rocker Vuole la rivoluzione Però si innamora di una top-hote Passare pro che auf bambina Team percentages Anche sono campioni di russa E per te tu non impiego Anche sono campioni di russa E per te tez E per te te vengare Io penso che non pensare a me No, io penso che non possiamo Ci siamo interessanti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info bari bomba volevo dire qualcosa di interessante si ho un brufolo sul mento amici brufoli sul mento raga mi sono rotto un ginocchio c'è un ginocchio che fa così fa raga scusate ci chiedevamo ma la tuina che cosa cazzo è la tuina raga centro massaggio è un modo diverso per dire sega curare i curare i piedi siamo tornati a milano e facciamo appuntamenti di lavoro c'è anche il PA che vi saluta saluta we are about to board our first plane mickey found the ticket from amsterdam to milano so we're joining on lifestyle us they told me i lost against a young krueger and they also censored my nipples because you could clearly see them before well well what are you oh i had to make you laugh ciao milano ciao milano ciao 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 Grazie per la visione